Exvo Valprino, interessantissimo convenio sul monte Faudo che è uno dei punti principali del nostro programma perché noi dobbiamo rivalutare non soltanto le frazioni di Imperia ma anche i comuni vicini, dobbiamo fare una rete con tutti i comuni dell'area Faudo, fare dei progetti di classificazione dei sentieri, dei progetti per accedere a bandi comunitari creando un consorzio sul modello del finalese, basta copiare. Consorzio di tutti i comuni dell'area, fare dei progetti per rivalutare, rimettere in ordine i sentieri, classificarli, mettere dei cardelloni che identificino i sentieri pericolisti e poi fare promozione del territorio perché noi abbiamo un territorio bellissimo che non tutti lo conoscono, abbiamo una stagione lunghissima perché il nostro clima qua è favorevole per 9-10 mesi all'anno però dobbiamo fare rete con tutti i comuni. Oggi siamo a Dolcedo, la mia intenzione è di andare a parlare con tutti i sindaci di tutti i comuni vicini e fare rete, finalmente che è una delle cose che mancano.